La morfina, una droga prescritta da alcuni medici irresponsabili come analgesico, ha solfazione narcotica. Ma io che sono un medico coscienzioso, ho inventato un preparato che, se ingerito in forma di liquido... ...da un morfinomane sprofonda il paziente in un sonno eterno. Agisce ottimamente nello champagne. Maier, e a me che cosa accadrà? Ridurrà il suo battito cardiaco, ma non lo fermerà. Su, coraggio, bevi. Così te ne renderai conto. È di buona annata almeno. Passaggia. Prosit. Ora, se nel suo organismo ci fosse della morfina, lei morirebbe nel giro di un'ora. È preoccupante. Tu devi solo preoccuparti di mettere Froile in dottore e questo veleno insieme. Magnifica fuga, Maier. Bravo. Dimmi ancora di quando ti hanno ferito. Scusi, signore, io preferirei non parlare di questo. Il ricordo è troppo doloroso per me. Ah, che il courage, mon brave. Dunque, Shell... ...è morto valorosamente. No, signore, io ho detto che ha combattuto valorosamente. Sulla spiaggia. Ma certo. Shell è finito contro un muro. Evidentemente dopo aver parlato. Shell ha parlato? Sì, a noi risulta che qualcuno ha parlato. Davvero? Franz, per favore, portami l'ultimo rapporto del nostro emissario nell'intelligence service. Sì, signore. Grazie, colonnello. Congratulazioni, colonnello. Mi compiaccio davvero per l'efficienza della sua organizzazione. Ma in che altro modo? Potevo tornare ai suoi ordini. Grazie, Meyer. Prego. Il tuo primo incarico sarà di seguire le istruzioni del colonnello Forman. Lei vuole che io ammazzi...